Presentazione del libro L'Energia Siamo Noi Di Paolo Benda e Silvana Vergari Seconda edizione Il termine chakra letteralmente significa disco. Tale è la coincidenza, che in epoca moderna i dischi sono le comuni unità di memoria delle informazioni programmate. Possiamo servirci di questa analogia e pensare ai chakra come a dischi che contengano programmi vitali. Noi possediamo un programma di sopravvivenza che ci avverte quando dobbiamo mangiare, quante ore dobbiamo dormire, quando indossare un maglione. Esso contiene dettagli come di quanto denaro riteniamo di aver bisogno, di ciò che siamo disposti a fare per quel denaro, di che cosa costituisce una minaccia per la nostra sopravvivenza e che cosa ci fa sentire al sicuro. Allo stesso modo abbiamo dei programmi per la sessualità, potere, amore e comunicazione. Secondo questa analogia possiamo considerare il settimo chakra il sistema operativo. Esso rappresenta il modo in cui organizziamo e interpretiamo tutti i nostri programmi. Nel libro vengono descritti minuziosamente e scientificamente con un nome, un colore, un elemento, un suono, una vibrazione, un'area specifica della colonna vertebrale e un conseguente focus su una parte del corpo. Il libro è disponibile su Amazon.